La magia del Natale arriva anche a Ragusa Ibla, circondandola di un'atmosfera calda e accogliente che fa risplendere l'antico quartiere barocco di una luce particolare, fatta di aria natalizia, ricordi di infanzia e profumi di una tradizione che si rinnova e si tramanda. Il programma di Natale barocco si presenta ricco di appuntamenti che animeranno Ibla fino al 10 gennaio, con iniziative religiose non dedicate a grandi e piccoli, perché il Natale è una festa per tutti, proprio come vuole la ricorrenza. Gli eventi promossi dall'assessorato agli spettacoli del comune di Ragusa e dal centro commerciale naturale Antica Ibla hanno preso il via per la festa dell'Immacolata, che ha segnato l'inizio ufficiale delle festività del Santo Natale, inaugurando in quella giornata anche la casa di Babbo Natale. È stata aperta anche la via dei Presepi, che si protrae per diverse vie cittadine. In questo fine settimana sarà presente anche il prestigiatore Emanuele D'Angeli, il talentuoso e giovane prestigiatore che ha conquistato il pubblico nazionale ed è quindi pronta a divertire il pubblico con vari numeri di magia per un sabato sera di allegria. Molti gli appuntamenti con la musica, con le esibizioni dei più diversi cori e il festival organistico nelle diverse giornate natalizie. Ovviamente non mancherà la tradizionale tombola, con diverse tombolate in varie piazze ragusane e l'appuntamento un cartone insieme per intrattenere i più piccoli. Per l'Epifania è anche previsto il giro per Ragusa e Ibla a bordo del trenino, in compagnia della Befana. Suggestionanti saranno anche le novene di Natale raccontate per le vie del quartiere. Un programma all'insegna dunque delle tradizioni e della serenità che connotano il periodo natalizio.